ciao a tutti i miei rati pernughi oggi siamo qui a Ikea e sono contenta perché questo qua sarà il primo vlog dopo una marea di tempo quindi finalmente siamo riusciti a sono riuscita ad uscire e ad andare ad Ikea perché devo a parte che volevo vedere se c'era qualcosina di carino anche per Halloween e poi perché devo informarmi su dei mobili che ho in detenzione di acquistare per la mia camera perché non so se ve l'aveva già detto ho intenzione di trasformare la camera mia a sala nuova quindi quale è il meglio posto di Ikea per comprare qualcosa di carino poi io qua mi sento sempre a casa perché ho la svezia sempre nel cuore ragazzi e niente vi faccio vedere non so se lo vedete anche il ponte nuovo laggiù il ponte San Giorgio niente dai entriamo ci facciamo misurare la temperatura ho la mascherina perché non la tolgo perché è meglio tenersela quindi anche per quello che faccio il vlog con la mascherina niente entriamo e niente vi porto con me all'Ikea ciao facciamo una collezione a Ikea ho preso la torta svedese che io adoro ragazzi la torta svedese è buonissima non so voi se amate questo tipo di torta ma io adoro tantissimo fatemi sapere nei commenti se anche voi amate la torta svedese dell'Ikea e niente buona colazione a me e anche voi eventualmente la state facendo buona ho detto oggi lunedì non ci starà nessuno insomma nessuno proprio secondo me col fatto che ieri c'era brutto tempo sono venuti tutti oggi sicuro bandiera svedese e bandiera italiana mi rappresentano molto devo dire ok colazione fatta adesso prendo e vado a farmi un giretto poi andrò a reparto delle delle camere da letto a vedere un attimino se riesco a capire qualcosa perché risulta che la camera qua non è disponibile quindi risulta disponibile solo online vediamo un po' un attimino di capirci qualcosa io avrei preferito prenderla qua no vediamo un attimino comunque oggi mi sono messa al mio vestito di questa andiamo mi porto con me grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao ragazzi.